Bella ragazzi, oggi sono in un ambientino in, sempre ad Orsara di Puglia, con il grande Leonardo e Lucia e ci siamo praticamente, abbiamo scambiato un paio di parole, anche qui tante cose interessanti e sui piccoli produttori perché diciamo facendo e avendo passione si possono ottenere tante situazioni interessanti e bene, 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 eccoli qua, il tuccanese, abbiamo il magliano e la maianca che praticamente sono quei nomi che richiamano delle zone particolari di Orsara di Puglia che dire, anche questi possono essere prodotti che magari li troveremo presto nelle nostre ghiottonerie per capire che gusto e che sensazioni e che emozioni ci possono dare